Professor Fazzi, lei si occupa naturalmente con la sua equip di dirimere il mistero dell'acqua di San Valentino attraverso delle analisi specifiche. Cosa avete trovato? Forse siamo riusciti a capire qual è l'agente causale del re aguta che ha dato problemi ad alcune centinaia di cittadini di San Valentino. Noi abbiamo eseguito un numero non elevatissimo ma secondo me sufficiente di campioni fecari per la ricerca evidentemente dei patogeni enterici che potessero essere stati responsabili di questa infezione, di questa gastroenterite. E cosa abbiamo trovato? Con una metodica molto sensibile e specifica in biologia molecolare, quindi una metodica molecolare, abbiamo evidenziato su 18 campioni esaminati ben 12 che avevano questa escherichia goli enteropatogeno. Che cos'è l'escherichia goli enteropatogeno? Allora, gli escherichia goli sono una popolazione, diciamo così, di bacilli grammi negativi che vivono nel nostro intestino. E ci sono gli escherichia goli, tra virgolette, buoni, che sono colonizzanti e saprofiti del nostro intestino, che talora possono dare patologie nel sangue, nelle urine, come spesso capita quando si ha una cistite, spesso l'agente causale è proprio l'escherichia goli. Poi c'è un gruppo eterogeneo di escherichia goli, cosiddetti patogeni. È un gruppo costituito da 5-6 escherichia goli particolari, più cattivi. E uno di questi gruppi è rappresentato da questi escherichia goli enteropatogeno, che viene definito per comodità con l'acronimo anglosassono EPEC, che significa Enteropatogenetic Escherichia Goli. E quindi probabilmente queste acque di San Valentino sono state contaminate da feci, che quindi sono entrate nelle acque, nel circuito acquedottistico, e ovviamente dentro a queste feci c'erano questi escherichia goli enteropatogeni, che hanno dato appunto questa sindrome diarroica. Non possiamo peraltro nemmeno escludere che ci siano stati anche altri agenti causa di diarrea, perché nelle feci ovviamente ci sono parecchi patogeni. Però al momento io ho trovato solamente questo escherichia goli enteropatogeno. Adesso sarà compito dell'istituto zooprofilattico di chiudere il cerchio. Come? Seguirà degli esami sugli escherichia goli che sono stati evidenziati dalle acque e gli escherichia goli che io gli invierò, invierò a loro, e faranno degli studi di genotipizzazione, poi utilizzeranno, suppongo, degli antisieri, e quindi probabilmente dimostreranno che il genotipo presente nelle acque è lo stesso presente nei soggetti infetti. Avevamo trovato sei escherichia goli su nove soggetti già due o tre giorni fa e è proprio notizia interna nostra, ma posso esprimermi liberamente con voi perché è una notizia che è comunque importante e va a confermare l'evidenziazione dell'altro giorno. Proprio stamattina su altri nove campioni abbiamo trovato sei soggetti con questo escherichia goli entropatogeno, per cui su un totale di 18 casi esaminati, ben 12 avevano questo bacillo. Penso che possa essere proprio lui il responsabile di questa sindrome di arroica. Una domanda da persona che non sa, ignorante, ma come si tratta adesso l'acqua per poter tornare a berla di nuovo? Allora, io non sono ovviamente un tecnico, magari non sono la persona più giusta che possa rispondere a questa domanda. Suppongo però, da quello che mi ricordo dai banchi di università quando ho studiato igiene, che una clorazione spinta possa sanificare le acque così da renderle di nuovo fruibili ai cittadini di San Valentino. Grazie a tutti.